Buon pomeriggio carissimi amici! Buona giornata, primo maggio, oggi si sente nell'aria che è quasi estate, stiamo arrivando proprio all'estate e si sente oggi un cielo limpido, azzurro, soleggiato e soprattutto un gran caldo qui a Milano. Buon pomeriggio, benvenuti! Siamo in Corso Buenos Aires, la via commerciale per eccellenza di Milano. Qui ci sono le boutique, ci sono auto di lusso, c'è il vero shopping center di Milano. Benissimo, noi come dicevo oggi siamo al caldo, il mese prossimo è estate e si sente, si sente proprio nell'aria. Siamo al primo maggio, il mese prossimo è estate! Io quasi quasi, quasi quasi andrei a prendermi un tè. Ci vediamo dopo. Buonasera, buonasera, mamma mia che meraviglia, un trifudio di profumi, di colori, di aromi. Insomma, dal dolce all'aperitivo è un luogo caldo, accogliente, meraviglioso. Sicuramente è uno dei posti più storici di Milano. Adesso ci faremo raccontare la storia, ci faremo raccontare da quando affonda le radici questo meraviglioso posto di cui adesso vi farò vedere e vi svelerò il nome. Qui siamo in paradiso? Siamo in paradiso! Allora c'è anche un angelo. Venite con me. Svelato, c'è, l'ho trovato, è proprio un angelo. Siamo in un paradiso con un angelo. Buonasera, angelo. Buonasera, buonasera. Cos'è che vuoi sapere? Allora io voglio sapere un attimino la storia di questo meraviglioso posto che nacque come pasticceria. Sì, è nato come pasticceria 50 anni fa, dove io da bambino già lo frequentavo, però avevo già lavorato in altri posti. E poi io e altri soci l'abbiamo aperto, dopo 20 anni abbiamo aperto anche il bar e il ristorante. E adesso è così come lo vedi tu. Adesso è sera, ma io sono qui da stamattina alle 4, perciò vuol dire che dalle 4 alle 9 sono sempre qua. E questa è un po' la mia vita. Quindi, pasticceria San Gregorio non è più solo pasticceria, ma è anche un posto dove si possono, per esempio, assaporare e gustare degli aperitivi. Sì, gli aperitivi siamo fortissimi, specialmente il sabato e la domenica, dove abbiamo un vasto assortimento tra pizze, panettoni gastronomici, panini e tutto quello che vuoi. Allora non resta che venire a trovare Angelo e gustare le specialità di San Gregorio, pasticceria, gelateria, ristorante. Ciao, un bacio, ciao. Ciao, grazie.